Dal paradiso nel 2050. Riordo di Riccardo. Etis avea un negozietto strano sotto le logge là fuori del ponte, con tante foto mostrappicciate al vetro della porta e in due vetrine. Eran figure di tant'anni fa, di prima della guerra e anche più là. Tanti bimbetti a scuola cor maestro, un lungo treno merci in istazione, du barche o l'arena in riva all'arno, un pontantio sull'era disegnato e poi tante vedute di ampagna. E bovi affatiacco ontadini. Stalle, tinaie e botti vecchi e rotte a raccontà di vand'erano piene del vino novo che facea cantà. Su qualche foto ci scrive al messaggio per i cristiani che passano di là. Eran discorsi a far riflette su quel che contano della vita umana. Lui li apiva tutti, è naturale, ma a volte noi poeretti invece no, perché gli eran discorsi ompriati d'una filosofia troppo inguaiata. Ma insomma, grosso modo si sapea che lui ci consiglia a vivere bene, da bon cristiani in della verità. E' qui il meglio, onziglio Riccardino. Il resto è paglia vecchia, ontadino. Riccardo